Nascosta tra i filari della vigna è stata scoperta una piantagione di marijuana a Mazzarino in un terreno incontrato a Briga 10. La squadra mobile di Caltanissetta, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto 5 soggetti. Celona Salvatore, palmese di 71 anni, Lucera Alessandro di 41 anni e Cardinale Davide di 32, entrambi palermitani. Bakr Mohamed Ahmed Gamal di 28 anni e il 18enne Metawah Mahmoud Mohamed Sham di origine egiziane, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, coltivazione di marijuana senza la necessaria autorizzazione e Celona Salvatore anche per detenzione di arma clandestina e furto di energia elettrica. L'attenta attività di osservazione ha permesso agli agenti dell'antidroga di scoprire dunque una piantagione con oltre 10.000 piante di marijuana. Sul posto era stata realizzata anche una serra, che completava il ciclo produttivo, dal semenzaio alle varie fasi della crescita delle piante fino al prodotto essiccato e finito. Sequestrati in oltre 465 grammi di marijuana del tipo Super Skunk. Al 71enne Celona Salvatore, i poliziotti hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola Brasa, completa di caricatore e 11 cartucce in esplose. L'uomo avrebbe anche seguito un allaccio abusivo alla linea elettrica per alimentare gli essiccatori della marijuana all'interno della serra. Dalla perquisizione dell'immobile, oltre alla marijuana già essiccata e alla pistola Beretta, i poliziotti hanno trovato lampade da 600 watt, trasformatori di corrente, bilance e bilancino di precisione digitale, rotoli di cellofan trasparente, macchine per confezionare in sottovuoto, umidificatori, bidoni di fertilizzante e ventole. Gli arrestati dopo gli adempimenti di rito sono stati associati presso la casa circondariale di Caltanissetta, tutti e 5 colpiti da decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela.